Buongiorno a tutti, sono Panzera Francesca, titolare dello studio immobiliare La tua casa di Lodi. Oggi siamo a Massalengo, paese che dista 4 chilometri da Lodi per farvi visionare una caratteristica villa con due unità abitative, ciascuna col proprio ingresso indipendente. Venite con me! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!